La quinta edizione del Napoli Teatro Festival Italia si svolgerà dal 7 al 24 giugno con una coda nell'ultima settimana di settembre sotto la direzione artistica di Luca De Fusco. Notevole l'apertura al teatro mercadante con The Macropolis Case di Bob Wilson dall'omonima drammaturgia di Karel Chapek. Spiccano poi nella programmazione due sezioni internazionali, una sulla nuova scena teatrale argentina con lavori di Claudio Tolcacir e Daniel Veronese, l'altra sulla danza israeliana con una performance commissionata dal festival. Ancora due lavori di rilievo assoluto concluderanno la fase estiva, Wonderland di Matthew Lenton e The Suit con l'adattamento e la messa in scena e in musica di Peter Brook. Molte le produzioni del festival che mettono l'accento sulle scritture contemporanee, lasciando uno spazio significativo agli artisti napoletani e campani, con gli autori Antonella Cilento, Carmine Borrino, Valeria Parrella, Igor Esposito e i registi Arturo Cirillo, Davide Iodice, Roberto Azzurro, Antonella Monetti, Peppe Sollazzo, solo per citarne alcuni. Nella chiusura di settembre ci saranno anche due prime assolute di Antonio Latella, c'è del pianto in queste lacrime ispirato a lacrime napolitane, ed Enzo Moscato con la scrittura Ta-Ka-Ità. Fra gli altri lavori, le letture dell'isola di Arturo di Elsa Morante curate da Alicia Maglietta nel parco archeologico di Pausilipo Naccoroio, il problematico testo Ecrire e mettere en scène aujourd'hui di Marion Aubert e Pierre-Yves Chapalin, le performance di strada Ramblas e il settimo movimento di arrevuoto nell'auditorium di Scampia, che concluderà la fase autunnale del festival. La programmazione degli spettacoli sarà anticipata da un concerto straordinario della cantante israeliana Noa, il 6 giugno al Teatro San Carlo.